Lavoro per i giovani e crescita economica devono essere le priorità assolute dell'Unione Europea e l'Italia è pronta ad essere il motore trainante verso questa direzione. Così il Premier Enrico Letta nel suo discorso al Senato per esporre le linee guida del governo italiano al vertice straordinario dell'Unione Europea che si terrà domani a Bruxelles. L'Europa, e il ragionamento di Letta, non può perdere ancora tempo e deve accelerare sulle cose da fare perché altrimenti l'alternativa è l'implosione. L'Europa deve investire tanta energia a definire politiche per la crescita e la creazione di lavoro quanta ne ha dedicato alla modulazione di un sistema di regole per mettere sotto controllo i conti pubblici e le politiche economiche dei suoi stati membri. L'Europa deve far seguire alle parole fatti reali. L'Europa è in crisi di legittimità anche perché è in crisi di efficacia concreta. Insomma, l'Unione a 27 non deve essere una gabbia ma aiuto per la crescita. Letta ha già anticipato che scriverà quanto prima una lettera a Varron Pui per chiedere che al vertice di fine giugno il lavoro e l'occupazione giovanile siano al centro di tutto, l'obiettivo primario. Quel vertice, ha detto Letta, deve essere un'occasione utile per decidere misure concrete, facili da spiegare e immediate da verificare. Una posizione forte, quella che Letta vuole assumere sulla scena europea e che deriva dai tanti sacrifici che l'Italia ha fatto per mettere a posto i conti pubblici. Una posizione che il nostro Paese potrà assumere con maggiore forza una volta che la Commissione europea avrà chiuso la procedura per deficit eccessivo che abbiamo ancora in carico e la data chiave per raggiungere questo traguardo che per la verità molti osservatori danno per scontato è il prossimo 29 maggio. Intanto i temi che saranno domani al centro del vertice europeo sono oltre alle politiche energetiche europee, la lotta all'evasione fiscale internazionale e alla frode e su questi temi, dice Letta, non ci devono essere timidezze perché sono imperativi morali e categorici per tutti gli Stati membri.